Il primo luglio è pericolosamente vicino e l'aumento dei pedaggi sulla 24-25 è inevitabile se il governo non interverrà concretamente. Una spesa enorme, impossibile da sostenere per famiglie, autotrasportatori e pendolari. Le più colpite sono le aree interne, che si va a sommare purtroppo con il caro carburante. Viaggiare costerà molto di più, per gli autobus e tir ancora peggio. A 20 giorni dalla fine dello stop all'adeguamento automatico del 34,74% delle tariffe non è stato fatto nulla ufficialmente, ma quanto se ne sa nemmeno ufficiosamente per scongiurare questo salasso, nonostante il ministro Enrico Giovannini alla Camera avesse annunciato uno stop. Anche strada dei parchi il concessionario ha fatto sapere di non avere ad oggi nessuna notizia. L'alternativa sarebbe una proroga di uno sconto commerciale da parte del gruppo Toto, ma questo significherebbe avere un buco nel bilancio del concessionario e allora si attende la mossa del governo. Nessuna novità, a quanto pare, anche sul nuovo PEF, il piano economico-finanziario, né tanto meno su una ipotetica rescissione della concessione. Eppure di questo si era parlato a lungo. Stada dei parchi, infatti, aveva già inviato due missive a Roma, nelle quali si annunciava l'intenzione di far cessare la concessione con otto anni di anticipo rispetto alla naturale scadenza, con il concessionario che chiede una buonuscita di circa 2,4 miliardi. Tutto tace, però. Ma non i sindaci di Abruzzo e Lazio coinvolti in questa battaglia a salvaguardia soprattutto del territorio e delle zone interne. Da tempo gli amministratori, capitanati dal primo cittadino di Carzoli, Velianazzarro, chiedono risposte certe, ma la situazione ad oggi è purtroppo tutt'altro che rosia e definita e i tempi stringono. Il primo luglio è ormai alle porte. I sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella battaglia contro il caro pedaggio e per la sicurezza dell'A24-A25 sono ancora in attesa di conoscere quale è il provvedimento che ha adottato o che adotterà il Ministero o il Governo per garantire il blocco dell'aumento dei pedaggi. Nel frattempo noi sindaci non stiamo con le mani in mano. Ci stiamo quindi organizzando, visto il silenzio dei poteri alti, ci stiamo organizzando per mettere in atto una serie di manifestazioni, una serie di proteste perché sicuramente non consentiremo l'aumento dei pedaggi e soprattutto vogliamo delle risposte certe, vogliamo delle garanzie sulla sicurezza nelle nostre strade.